Addio ai Platani di Antonella Rizzo, una splendida pubblicazione perversi di Oistros Edizioni. Si tratta di una serie di 33 componimenti circa scritti nell'arco dei 10 anni che rivelano come delle patrie ideali, delle dimore ideali che possono chiamarsi Trieste, Milano, sono semplicemente dei luoghi dove trovare ristoro, rifugio, delle tante cicatrici che il mondo procura all'autrice. Grande sensibilità poetica, grande lavoro di essenzialità sul verso. Il componimento che è la prefazione di Ignazio Ricata ha il suo Principium Individuazionis nel far comprendere come il ricercarsi, il conoscersi e il farsi riconoscere all'interno del proprio percorso esistenziale sia un viatico abbastanza lungo e faticoso per diventare una persona e non un individuo.